Si tratta di un'altra brutta tegola per l'attacco del Palermo. L'infortunio di Nicola Rauti è più pesante del previsto. Il problema al ginocchio destro costringerà il giocatore rosa nero a rimanere fuori almeno due o tre settimane. Le condizioni devono essere valutate ma di certo l'attaccante non potrà scendere in campo per la gara del secondo turno dei playoff in programma mercoledì prossimo contro la Juve Stabia. Il tecnico Giacomo Filippi è dunque costretto a modificare qualcosa in attacco. Rispetto all'assetto offensivo delle ultime settimane si valuterà la possibilità di far scendere in campo sin dal primo minuto Lorenzo Lucca. L'attaccante ha ricominciato ad allenarsi con la squadra ma ci sarebbe anche Andrea Saraniti pronto a giocare dal primo minuto. Il palermitano ha disputato delle buone partite nelle ultime sfide contro Virtus, Francavilla e Teramo. Per l'allenatore ci sono da sciogliere anche alcuni rebus per ciò che riguarda la difesa. Sono da valutare infatti le condizioni di Palazzi e Somme che non hanno superato gli infortuni che li hanno costretti a rimanere fuori nel primo turno dei playoff. A centrocampo sempre in dubbio Auger che però sulla via del recupero. La Lega Pro ha reso noto che il Palermo sul campo della Juve Stabia nel secondo turno dei playoff scenderà in campo mercoledì prossimo 19 maggio con inizio alle ore 17 e 30.